Le mareggiate avevano devastato la costa causando danni importanti alle infrastrutture balneari. Gli operatori hanno dovuto fare i conti con un litorale distrutto, cercando di sistemare, riparare e salvare tutto ciò che la forza delle onde non ha rotto o non ha spazzato via. Diverse sono state le spiagge messe in ginocchio e tra queste, come vi abbiamo mostrato nelle immagini del 5 e 6 febbraio scorsi, ci sono quelle di Gimarra. Il maltempo di febbraio qua che danni ha provocato? Il maltempo di febbraio ha provocato qui lo sbottamento di questo terrazzino che c'erano nel bar e ci ha portato via tutto il muro, ha crollato tutto. Dei problemi anche da questa parte? Problemi di qua, che ha scoperto tutti i tubi, che c'erano delle fogne del corio che c'erano sotto, ha scoperto tutti i tubi, bisogna fare tutta la rete fognaria nuova. C'è tanto lavoro da fare qua? Qui sì, perché dobbiamo rifare tutto il muro, tutto intorno, un po' più solido di quello che c'era e poi rifacciamo tutto il piano sopra. Anche perché qui il problema è fare arrivare la roba, non abbiamo una strada, con i camion non possiamo arrivare, quindi dobbiamo scavalcare il sottopassaggio e portare tutta la roba a mano. I danni provocati sono stati ingenti anche ai bagni Crida, dove già dai giorni successivi al maltempo gestori, clienti e operai si sono messi al lavoro per poter ripristinare la spiaggia che gestiscono da una vita. Come sono stati questi quasi due mesi? Duri, molto duri. Abbiamo avuto molto aiuto da conoscenti, parenti, però inizialmente, poi dopo ci sono lavori speciali, lavori professionali. Però ti voglio dire che ci siamo lasciati in ginocchio, ci siamo subito ripresi, con questa gran passione che abbiamo per questo lavoro, che ormai sono 40 anni che facciamo questo lavoro, i miei figli, io da giovane e quindi andiamo avanti. Sono stati eseguiti dei lavori proprio strutturali? Sì, strutturali, perché come avevate visto l'altra volta, aveva stravolto tutte le passarelle, il cemento, i capanni che erano stati buttati giù. Quindi tutto questo lavoro è stato quasi rifatto, come vedete ci sono tutte le passarelle già fatte, anche se poi il maltempo ha ripassato successivamente. Anche quello l'abbiamo rimesso a posto. Adesso cosa ti devo dire? Aspettiamo l'amministrazione che faccia il suo dovere. Le riunioni ci sono state, le promesse ci sono state. Adesso aspettiamo. Noi il problema nostro, quello che rimane adesso, è il ripascimento. Invece l'AZET è passata a ritirare il materiale? Ecco, un altro problema è che noi per arrivare nella nostra spiaggia c'è un tratto che è stato rovinato. Nel comune e nell'AZET ha provveduto a risanare questo tratto per poter passare con i camion, venire a ritirare tutta l'attrezzatura rotta, murature buttate giù. Io spero anche questo, che si mettano d'accordo e chi deve fare questo lavoro, altrimenti noi siamo bloccati. Entro quando contate di aprire? Si parla del primo maggio, ma io penso che noi saremo sicuramente pronti, anzi, penso di poter dire che faremo una bella festa per tutti i nostri clienti, sicuramente.